Eccoci ragazzi, finalmente live reaction allo stadio, Necce Rosinone, una partita non facile perché il Rosinone è una buona squadra in piena zona playoff, vorrà farci sicuramente lo scambetto, se la possiamo fare io ci credo, ci sentiamo alla fine primo tempo ragazzi, forza Necce, dai, dai! Ah, come on! Ah, come on! Grazie. Grazie a tutti del primo tempo, bravissime ragazzi, bravissime, bravissime, in difesa perfetti, perfetti, Di Mariano ha avuto un'occasione per segnare, anche Hulmand ma gli è stato diviato il tiro, poi il gol di coda, bellissimo, è il suo diciannovesimo gol in campionato, bellissimo gol di destra, il suo assist di Di Mariano, l'avete visto prima, forza legge sempre, ci sentiamo dopo, ciao ragazzi. Oh bravissimo, che rischio mamma mia che rischio. Bello, oh beccato, bravo va bene. Ahè, non ci credo. Ahè, non ci credo. Sopra, 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 orca miseria. Vittoria importante ragazzi, dopo la sosta, il premonese sta coreggiando, a quanto pare. Non vogliamo, forza legge ragazzi, dai. Ahè, non vogliamo, forza legge ragazzi, dai. Grazie. Grazie.